Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Innanzitutto prima di iniziare vi ricordo se non l'avete già fatto un bel like e l'iscrizione al canale Grazie mille a chi lo farà il codice catore come vedete qui in basso XEmanuele97 Detto ciò ragazzi oggi siamo con la missione di planare per 150 metri Dopo essere stato sopra al nostro amico dinosauro Eccoli lì ragazzi ce l'abbiamo lì Guardate che bello in questa zona della mappa lo possiamo trovare Infatti noi ce l'abbiamo qua E' una missione davvero davvero semplice Spero che vi sia utile questo tutorial per poterla completare e fare 25.000 punti esperienza che fanno davvero comodo E eccolo qui ragazzi ci basterà salire andare in questa parte e appunto planare per 150 metri Quindi una missione davvero davvero semplice che ci farà fare una bordata di XP Detto ciò ragazzi spero di esservi stato utile Se vi sono stato utile vi invito sempre a lasciare un bel pollice all'insù Un bel like, l'iscrizione al canale e ovviamente il codice creatore xmanuele97 E noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video Ciao ragazzi